Ok ragazzi, grazie ancora veramente dei commenti, dei messaggi, è impressionante, sono il primo a dirlo, è qualcosa di veramente tosto. Rifacciamo in modo, questa è l'ultima volta che lo ricevo, solo perché me lo avete rifatto, quindi mescolo quante volte voglio, il mazzo di carta è regolarissimo, una carta libera guardo voi e non guardo niente. Ok? Dentro, tac, e mescoliamo. Quante volte vogliamo, nessun ordine del carta, quanto vogliamo, un po' mescolo ospitatore anche, ok, voglio, non so niente, ora guardate voi stessi, proverò veramente qualcosa di impressionante, tenne ancora se volete, c'è problema, pronti, andiamo. È difficilissimo. Non carattersegnato, niente. Guarda voi. Guarda voi. Grazie a tutti.